rumore di fondo allora oggi altra mini recensione al volo altra mini recensione al volo magari invece 40 minuti durerà 20 mezz'ora allora cerchiamo di speedrunnare abbastanza in fretta e forse sarà addirittura un'impressione a caldo neanche una recensione vedremo dipende da quanto verrà lunga allora oggi in teoria io volevo registrare un video ma sono successo un paio di cose i miei genitori mi hanno detto ogni tot vai a controllare x quindi mi sono detto non mi metto a giocare a mori perchè non voglio distrazioni non voglio giocare a mori col pensiero dell'aspetta ogni mezz'ora vado un attimo a controllare x quindi facciamo qualcos'altro che se lo interrompo mi gira meno le palle tipo che ne so vedere un film vedere una serie qualcosa quindi mi sono detto dato che ho un botto di film da vedere e sono a 11 nemmeno no scusa non 11 sono a 14 film quest'anno però comunque è il secondo film del mese trattiamoli così dato che sono al secondo film del mese su 10 e prima di oggi ne avevo visto solo uno mi sono detto sai che cosa vediamo almeno un secondo film oggi pomeriggio che cosa prendiamo qualcosa di non troppo elaborato e seguibile prendiamo un altro dei sequel della ricerca della valle incantata e l'ultimo che avevamo visto era il quarto film che era la terra delle nebbie se non mi sbaglio non sono andato a controllare ma credo che fosse sì credo fosse la terra delle nebbie perché il secondo era la grande avventura della valle il terzo era il mistero della sorgente sì la terra delle nebbie sì ragazzi vi giuro mi sto ricordando a memoria non avete idea insomma quello che abbiamo visto quello che ho visto io oggi è alla ricerca della valle incantata 5 l'isola misteriosa effettivamente titolo ufficiale tradotto bene perché the land before time the mysterious island sì ragazzi per quelli di voi che non sono studiati il titolo originale alla ricerca della valle incantata è the land before time letteralmente la terra prima del tempo va bene ma tanto ormai se siete arrivati a ascoltare questa quinta recensione della ricerca della valle incantata lo dovreste sapere del 1997 e già qui cambia il regista il regista non è più quello dei primi tre sequel allora mi sono scritto sul blocco appunti qual è un attimino la storia di questo film anche se potrei raccontarla così alla veloce però vi leggo direttamente dal blocco appunti allora a parte che c'è l'introduzione come in ogni film della valle incantata credo che ogni sequel della ricerca della valle incantata parta con questa introduzione del che cos'era la terra milioni di anni fa e indovinate un po' era popolata da queste grandissime creature iper mega strafiche che sono i dinosauri e insomma anche questa volta il narratore italiano si è depresso nel dire i dinosauri perché boh boh non c'è più la stessa fuga dei primi film e tra l'altro ne ho approfittato io per impararmi che si dice dinosauri e non dinosauri la differenza è minima però è la S quella non quella dura perché ci sono due tipi di S e dinosauri è sbagliato dinosauri è sbagliato cioè scusate tutte e due sono sbagliate ragazzi si vede che qui c'è un ci sono dei rimasugli di un corso di doppiaggio e insomma fatto sta che si dice dinosauri e ora dovrò impararmi che si dice che si dice dinosauri e non dinosauri con la S che sembra quasi una Z allora praticamente nulla c'è stato il narratore che il narratore che si è perso si è depresso nel parlare si ragazzi ora lasciate stare la mia dizione durante le recensioni cioè io ci provo a parlare in maniera corretta però questi sono veramente audio che vanno così su internet e chi se li vuole ascoltare se li ascolta cioè non è che ci butto tantissimo impegno cioè mi impegno però cioè non è roba che andrà sul grande schermo insomma il 99% dei miei contenuti sono butta su internet e che gli interessa va bene insomma che cosa succede succede tutti quanti felici nella valle incantata tutto bello tutto allegro arrivano i mangiafoglie sciamanti che sono praticamente delle locuste che arrivano e si inculano tutta la vegetazione della valle incantata nella valle incantata non c'è più un cazzo da mangiare quindi tutti quanti decidono di migrare tutti quanti decidono di migrare e di andarsene via cosa succede succede che durante il viaggio una certa il mega gruppone di tutti i dinosauri compresi i genitori dei cinque disagiati che tanto sapete già chi sono i cinque disagiati sono piedino pitri triki spike e daki e vi giuro che per un momento con daki sono ho avuto un attimo di lapsus perché non mi ricordavo il suo nome vi ricordo ragazzi che se mi sbaglio e dico sira è sempre triki è sempre triki è il nome italiano che è diventato triki il nome originale è sira e insomma cosa succede i genitori iniziano a incazzarsi fra di loro tutto quanto e dicono va bene allora a sto punto vaffanculo domani ognuno va via per conto suo vi separate vaffanculo i cinque disagiati si dicono no non possiamo lasciare che i nostri genitori vadano ognuno per la loro strada sapete cosa abbiamo un piano andiamo a cercare il cibo per conto loro e loro ci dovranno seguire per forza perché lasceremo queste impronte noi li porteremo diritti i diti dal cibo e salveremo tutti quanti la situazione molto bene questo è il grande piano di piedino che cosa succede praticamente e in realtà lo so che cosa succede ma sto guardando la scaletta per vedere come l'ho scritto più o meno va bene praticamente loro vanno per i cavoli loro e fino al punto che iniziano a fiutare qualcosa e si rendono conto di aver fiutato l'acqua e già qui grande stronzata bravissimi insegniamo ai bambini che l'acqua ha odore va bene il bambino va a scuola gli insegnano che l'acqua è in odore e lui penserà ma la ricerca della valle incantata piedino e i suoi amici l'avevano annugiata l'acqua perché insomma tutte piccolezze tutte piccolezze fatto sta che si rendono subito conto che acqua di mare e ovviamente la sputa onde evitare di morire disidratati perché c'è anni di sale in quell'acqua fa schifo a tutti tranne che a Spike perché ricordiamo ragazzi Spike non gliene frega un cazzo Spike è il miglior personaggio mangia dorme non fa un cazzo e se ne frega di tutto Spike non gliene frega se l'acqua di mare è salata e fa schifo pure a lui la beve lo stesso e io rispetto Spike è un dinosauro audace e ci piace insomma che cosa succede loro riescono a trovare un'isola vedono che c'è tutti i verde c'è tutta la vegetazione si dicono cazzo questo sarebbe il posto perfetto per andare a vivere quindi vanno a viverci proprio prima che si alzi l'alta marea soltanto che poi restano confinati sull'isola della morte incontrastata insomma su quest'isola tutto bello loro hanno trovato la vegetazione e tutto quanto però sono da soli non possono tornare indietro perché la strada adesso è sommersa loro sono bloccati su quell'isola che cosa succede succede che su quell'isola il giorno dopo loro attenzione attenzione rincontrano mordicchio rincontrano mordicchio sapevo che sarebbe tornato cazzo insomma niente non nascondo che ho fangerlato per un momento quando ho rivisto mordicchio e l'avevo già intuito perché si vede l'ombra del dentiaguzzi però dentiaguzzi dentiaguzzi non dentiaguzzi sì ragazzi c'è differenza anche fra le zeta perché c'è la zeta di zanzara e la zeta di zucchero sì ragazzi si dice zucchero per quelli come me che hanno passato tutta una vita a chiamarlo zucchero vi siete sbagliati bello fare un corso di doppiaggio e scoprire che metà della tua vita è stata una menzogna bellissimo come quando viene a scoprire che si dice che verbo essere si dice io sono e non io sono va bene no scusami che si dice io sono e non io sono perché io sono è abbreviazione storpiata di io sono quando l'ho scoperto a doppiaggio mi sono letteralmente sentito ho letteralmente risposto ho passato 23 anni nella mia vita nella menzogna su quante altre cose mi hanno mentito insomma incontra incontrano di nuovo mordicchio che adesso è un pochettino più cresciuto di poco perché è sempre un bambino però si sono rivisti con mordicchio che è strafelice di avere di nuovo degli amici e soprattutto di avere degli altri amici dinosauri che non rugiscono ma effettivamente parlano e io infatti qui devo chiarire come aspetto perché ci sono dinosauri che rugiscono e dinosauri che parlano darò per scontato che sia per caratterizzare i dinosauri più evoluti e importanti per la storia da dinosauri meno evoluti più istintivi più puntati sull'istinto i più selvaggi sono quelli che non sanno parlare e sono delle bestie insomma diciamo che forse il parlato è oltre che aspetto di trama per far proseguire la storia è per far capire quali sono i dinosauri più intelligenti infatti mordicchio sa parlare perché è un po' più intelligente insomma perché se lo fosse perso mordicchio era questo cucciolo di denti a guzzi chiamato nel nostro gergo tirannosauro rex che era stato cresciuto o perlomeno inizialmente per poco cresciuto da piedino e suoi amici prima che venisse riportato ai genitori che poi sono andati via assieme a lui e non si è più saputo nulla fino a questo film che cosa succede succede che insomma long story short accade un paio di cosette nel film qualche problemino e finisce che tutti amici tutti allegri si fanno amici anche genitori di mordicchio che anche loro sono dei denti a guzzi tirannosauri rex grandi venti volte loro incazzati come delle belve ma riescono a farsi amici pure loro che adesso non li vogliono più mangiare e sono tutti amiconi in tutto questo apriamo una parentesi una parentesi parentesi forse credo si dica parentesi cercate di capirmi ragazzi dopo un corso di doppiaggio che mi ha sconvolto su metà delle pronunce che avevo io non ho più certezze nella vita quindi inizio a questionare ogni pronuncia che fo praticamente nella storia c'era anche un altro dente a guzzi che era sott'acqua perché loro si sono trovati anche in acqua una certa nel mare e c'era questo praticamente uno squalo che loro chiamavano dente a guzzi che nuota dente a guzzi che nuota insomma si scopre che il dente a guzzi che nuota in realtà è buono in realtà è una specie di dinosauro come lo è come lo è il mostro di Loch Ness dinosaura che è buona e per qualche ragione mistica sembra leggere nel pensiero dei protagonisti perché quando lei l'incontra la prima volta se ne esce con voi avete detto che ci sono i vostri genitori dall'altra sponda e io sono tipo aspetta non l'hanno detto non l'hanno detto ma che cazzo buco di trama buco di trama pieno cioè sarebbe bastato anche solo dire che lei cioè in realtà poi dopo lei dice mentre li porta dall'altra sponda che lei ha incontrato il nono di piedino dall'altro lato della sponda con una cosa davvero incazzante che mi fa incazzare che vi racconterò fra pochissimo e che da lì lei ha capito che ci sono altri dinosauri dall'altra parte ma in tutto questo non ci è dato sapere se lei fosse già al corrente che piedino e amici fossero i figli di quest'altro dinosauri o se semplicemente lo sa perché è veggente e legge nel pensiero dei bambini insomma fatto sta che per come lo ha detto sembra molto campato in aria al fatto che lei sappia chi sono e che ci sono i genitori dall'altra parte ma va bene insomma in tutto questo quando piedino e amici lasciano l'isola con mordicchio lì insieme ai genitori perché capisce che loro sono due specie differenti e non possono vivere assieme per la seconda volta piedino e amici ritornano dall'altra sponda del mare dove si scopre che i genitori hanno trovato da soli una nuova oasi in cui vivere nell'attesa che risbuchi la vegetazione nella valle incantata e la parte più bella la parte più bella è che i genitori danno ai figli il merito per aver trovato chiamiamola così la nuova oasi la nuova valle incantata momentanea gli fanno i complimenti per averla trovata io sto tipo ma che cazzo dici loro non hanno fatto un cazzo per tutto il film cioè hanno soltanto portato i dinosauri sulla sponda e poi il resto sono loro che hanno camminato lungo mare fino a trovare per puro caso un oasi che non c'è stato nemmeno fatto vedere cioè è sbucato fuori alla fine a caso cioè almeno abbi la decenza di dire non sono stati loro siamo riusciti a trovarlo siamo riusciti a trovarla noi ma siamo contenti che siate che stiate bene no grazie perché se non vi perché se voi se noi non avessimo seguito le vostre orme non saremo arrivati qui premi x per dubitare premi x per dubitare però cioè se i genitori hanno trovato quell'oasi non è sicuramente per merito dei figli cioè i figli li hanno portati fino al mare poi camminando lungo mare i genitori hanno trovato l'oasi da soli per conto loro dopo non si sa quanto tempo nel vero senso della parola non si sa dopo quanto tempo perché per quanto tempo rimangono loro sulla sponda ci restano un giorno buono sì perché una notte ci rimangono ma credo che forse per un giorno in un giorno in un giorno i genitori trovano l'oasi ci sta ci sta off camera ovviamente però insomma fatto sta che no non credo per nulla che il merito sia loro per aver trovato l'oasi non credo per nulla insomma in tutto questo l'isla non serviva un cazzo anche perché alla fine durante i titoli di coda si vede che risbuca la vegetazione nella valle incantata e tutti i dinosauri stanno tornando nella valle incantata quindi che cosa abbiamo imparato da questo film filler allora innanzitutto abbiamo imparato che mordicchio e gli altri non possono stare assieme perché sono una specie diversa peccato che questa era già la morale del secondo film in tutto questo i personaggi non hanno davvero fatto qualcosa non hanno davvero fatto qualcosa sono state più una combinazione casuale di eventi piuttosto che loro aver fatto qualcosa perché la storia dei personaggi cioè la storia di Piedino e degli amici a una certa non è diventata neanche più cerchiamo il posto per i nostri genitori è diventato un guarda è tornato mordicchio sì però i suoi genitori sono denti a guzzi come possiamo fidarci di loro eccetera eccetera e poi alla fine non restano neanche sull'isola cioè alla fine prendono e se ne vanno via non rimangono neanche sull'isola e se i genitori non avevano trovato l'oasi erano punto a capo cioè si lasciavano davvero morire di fame cioè se devo essere sincero almeno sul punto di vista della trama il film per me non arriva neanche alla sufficienza gli ho dato per non dargli un voto di merda gli ho dato 5,5 ma perché non me la sentivo di dargli la sufficienza cioè non è un film ignobile assolutamente no finora è il sequel peggiore che abbia visto della ricerca della valle incantata però per dire c'è due o tre aspetti che mi fanno ancora dire non è del tutto da buttare invece che dargli un voto di merda cioè non me la sento di dargli la sufficienza ma neanche di demolirlo quindi diamogli un 5,5 su 10 piuttosto che un 6 piuttosto che un 5 piuttosto che un 4 e quindi nulla per aspetto visivo per aspetto visivo i disegni sono sempre gli stessi delle volte prima fatta eccezione per l'introduzione che parte dallo spazio e poi arriva fino alla terra fatta in CGI in computer grafica e non lo so non è bruttissima però proprio si sente uno stacco cioè proprio si vede c'è uno stacco assurdo proprio cioè 1997 per il resto comunque effetti visivi non è malaccio salvo due o tre glitch grafici così che me ne sono accorto io ma nessuno se ne accorgebbe tipo piedino che per il cambio di inquadratura mette la testa fuori dall'inquadratura e poi si muove un attimo la videocamera e poi c'è un cambio di scena ma in quel breve movimento di camera chiamiamolo così perché è un film animato ma in quello breve spostamento di camera il collo gli rimane dentro l'inquadratura cioè è come se per un attimo fra il collo di piedino e la fine dello schermo ci fosse uno stacco e si vedesse lo sfondo cioè proprio aiuto ma non è un cartone della dingo pictures aiuto però vabbè tutto sommato visivamente è abbastanza guardabile tutto sommato visivamente ci va bene e non mi torna tanto la cosa che Mordicchio dice che lui e i suoi genitori erano gli unici denti a guzzi sull'isola e poi ne sbuca un terzo che non si sa da dove venga sì perché una certa sbuca un terzo più incazzato degli altri il fatto sta che lo riescono a far fuori per le canzoni allora tre canzoni in tutti i film ora io ripeto secondo me le canzoni non sono una cosa che fa parte della ricerca della valle incantata perché dopo aver visto il primo film e sapere come Don Bluth ha gestito la cosa le canzoni non sono una cosa alla ricerca della valle incantata secondo me ci stanno come cartone per bambini però secondo me non è la valle incantata e la prima canzone che è Gran Mare almeno intuisco però quella del Gran Mare in italiano no in italiano assolutamente no non tornano neanche le rime non tornano neanche le rime e ragazzi per una volta che ne ho avuto la possibilità perché c'era la traccia audio mi sono risentito le canzoni in inglese per una volta mi sono risentito le canzoni in inglese e perlomeno in inglese quella del Gran Mare è ascoltabile quella del Gran Mare in inglese è perlomeno ascoltabile e porca puttana almeno in inglese ci sono le rime almeno per quello è ascoltabile perché in inglese oltre che a tornare un po' le rime tornare qualche gioco di parole in italiano hanno come questa come per le altre due canzoni hanno tradotto molto alla lettera non preoccupandosi nemmeno di lasciare qualche rima cioè proprio traduci l'importante e il significato però non mi sono piaciute tantissimo e aiuto il catarrino la seconda canzone insomma che è quella che cantano Daki e gli altri perché gli mancano i genitori eccetera eccetera insomma in italiano non è male in inglese migliora di poco poco giusto perché c'è le rime però insomma mentre la terza sulla terza c'è un attimo di chicche sulla terza c'è un attimo di chicche perché Mordicchio quando per appunto vuole far capire agli amici che lui è amichevole che vuole dargli una specie di benvenuto gli va a cercare il cibo per loro loro gli dicono che cosa vorrebbero da mangiare e tutti quanti si mettono a cantare più o meno anche se Mordicchio canta da solo gli altri cantano in gruppo da un'altra parte però tre amici a cena no scusate non tre amici a cena la canzone tre amici a cena allora in inglese perlomeno tornano le rime torna qualche giochetto di parole qualche battuta in italiano invece abbiamo cambiato una parte del testo abbiamo cambiato una parte del testo e sapete che cosa non mi dispiace neanche come cambiamento vi spiego perché allora nella canzone per quasi tutto il tempo dicono praticamente tutti friends for dinner e ovviamente tutto questo si gioca sul fatto che amici a cena è perché Mordicchio è un dente a guzzi che è un carnivoro e quindi la battuta è che secondo Tricky e gli altri lui in realtà se li vuole mangiare quindi amici a cena nel senso che loro sono la cena poi ovviamente Mordicchio lo intende davvero come cena fra amici e tutto ci vogliamo tutti bene perché Mordicchio è buono si ricorda di loro però il succo del discorso è quello durante tutta la canzone in inglese rimane friends for dinner in italiano abbiamo deciso di fare questa distinzione ogni tanto all'interno della canzone di distinguere amici a cena e gente a cena questo cambiamento è stata una cosa che in realtà un pochettino mi è piaciuta perché secondo me per un pubblico italiano per un bambino italiano serve di più a evidenziare il fatto proprio di stacco fra no per lui noi non siamo degli amici siamo delle persone a caso che sono cibo per lui non siamo degli amici e questa cosa in italiano secondo me ci può stare soprattutto per un bambino che guarda il cartone quindi glielo devi rendere un po' più semplice per capirlo reputo che sia un cambiamento neanche troppo malvagio quindi abbastanza a posto abbastanza a posto in inglese invece rimane friends for dinner per tutte le frasi quindi cioè per tutte le frasi invece di dire friends for dinner someone for dinner proprio anche gente a cena cioè gente a cena l'abbiamo cambiato noi è friends for dinner per tutta la canzone madonna il catarrino fastidioso e nulla in inglese cioè in italiano non è malaccio mi piace questa chicca però ripeto in inglese le canzoni tornano di più perché perlomeno c'è le rime c'è qualche giochetto di parole in più che in italiano si è perso e cose varie parlando delle voci vabbè le voci finora i doppiatori sono gli stessi finora i doppiatori sono sempre gli stessi e l'unica voce di cui mi sento di parlare perché tanto è inutile che mi esprima su le voci di personaggio nel quinto film sono meglio in italiano che in inglese perché finché i doppiatori sono gli stessi sia nella lingua originale che doppiati credo che la mia opinione rimanga la stessa del primo film l'unico di cui volevo controllare la voce per una volta che avevo anche la traccia inglese era Mordicchio Mordicchio era l'unico che gliela volevo controllare poi c'era anche un altro personaggio nuovo aggiunto che in realtà non sappiamo se rincontreremo più avanti ma è la dinosaura stile mostro di Loch Ness che porta i ragazzi arriva però cioè è un personaggio che secondo me non serviva riascoltarlo in inglese comunque prima parliamo di Mordicchio Mordicchio me lo sono voluto risentire in inglese proprio per sentire come fosse e sì Mordicchio è molto meglio in inglese Mordicchio è molto meglio in inglese ha sempre quella parlata bambino proprio bambino piccino tutto quello che vuoi che fa le storpiature eccetera eccetera però non è come la voce italiana non è come il primo doppiatore di Roddy Winnie the Pooh che è quella vocina da bambino talmente fastidiosa che te ti dici dopo cinque minuti lo vorrei prendere a schiaffi da quanto è fastidioso in inglese invece è più sopportabile in inglese si ha sempre la voce da bambino però è molto più sopportabile almeno per me e poi l'altra dinosaura di cui in realtà mi sono già scordato il nome non l'ho risentita in inglese mi è bastata la voce italiana che era comunque molto buona per il personaggio ho trovato che come voce ci si attaccasse piuttosto bene e quindi mi sono detto non serve che me la risenta in inglese poi se lei dovesse ritornare come personaggio in un film futuro forse forse invece potrei ascoltarla in quel caso potrei fare un ascolto in inglese però per ora si questo era il quinto film della ricerca della valle incantata siamo a 5 su 11 sequel mi sembra aver capito che sono 11 e non 12 però sinceramente questo sequel l'ho trovato rispetto agli altri davvero molto evitabile l'ho trovato davvero molto evitabile perlomeno cioè avessero anche solo fatto in modo che effettivamente i genitori anche solo momentaneamente andassero sull'isola che ne so magari il mordicchio dice ai genitori guarda tanto loro devono stare qui soltanto per un tot siamo gli unici carnivori presenti a quanto pare non si sa chi altro ci sia ci sono solo loro facciamo una tregua lasciamo che si inusano per quel tempo che gli serve e poi vanno via e noi continuiamo a fare i cavoli nostri però cioè inventarsi un espediente per effettivamente far andare tutti sull'isola anche momentaneamente perché non mi puoi fare un film così sul cercare un posto momentaneo dove rifocillarsi mentre ricresce la roba lo fai tutto su un'isola tutto tanto più o meno si basa sul cerchiamo di farlo arrivare su quest'isola poi alla fine loro se ne vanno via e i genitori hanno trovato già un altro posto per i cazzi loro e non è stato neanche merito dei figli quindi insomma l'ho trovato un film davvero molto è stato bello rivedere il mordicchio ma la morale la sapevamo già quindi boh boh va bene che probabilmente il bambino non li guarda in ordine i film parlo io che sono cresciuto a sequel della disney parlo io che sono cresciuto a seguiti dei film disney senza aver mai visto gli originali cioè ehi mamma possiamo avere cenerent scusami meglio possiamo avere la sirenetta mamma abbiamo già la sirenetta a casa la sirenetta a casa la sirenetta 2 quindi questa era la mia infanzia praticamente ho visto pochi classici disney che non fossero sequel però sinceramente più degli altri 4 questo lo reputo un sequel davvero evitabile l'unica cosa che è successa che possiamo tenere a mente per film futuri è che ora piedino e gli altri si sono fatti amici anche i genitori di mordicchio e forse hanno incontrato anche questa questa nuova dinosaura che non si sa se riapparirà in futuro però va bene va bene ho visto un secondo film questo febbraio 2022 dai dai non è andata malaccio 30 minuti si posso passarla per recensione ora mi metto a fare qualcos'altro bella grazie a tutti